Una sconfitta per 3-0, diciamo come l'hai vista questa partita? Ho visto un approccio forse sbagliato anche dovuto alla mancanza del nostro mister che sicuramente in settimana si farà sentire Diciamo che di buono si porta a casa penso all'inizio del terzo set quando c'è stata grande voglia, grande entusiasmo forse poi è mancata un po' di energia Sì, purtroppo questa è una delle nostre pecche dove nei momenti migliori abbiamo un calo di concentrazione e alla fine molte volte gli sforzi non vengono premiati In questo prima verile ancora nessuna vittoria Secondo te qual è quel fattore che vi può dare una mano per sbloccare questa classifica? Il fattore C Grazie Ciao, grazie a te